Grazie professore Sagrion, adesso passiamo al mondo, alle voci del mondo della scuola che ci raccontano anche come i dati quello che sta succedendo e il disagio che si vive nel mondo scolastico per non poter raccontare esattamente a causa di una censura quello che succede veramente. E Carla Gueli ha raccolto queste voci per noi, voci dal mondo della scuola, lei è una tutora organizzativa dell'Università Roma 3, è una dottorata in pedagogia e didattica e a lei la parola così ci racconta un po' quello che davvero le voci dicono che spesso vengono silenziate. Grazie Irene Buscemi, sono anche un'insegnante di scuola primaria, ci tengo a dirlo perché è anche un'altra dell'identità con le quali oggi mi trovo qui a parlare. Intanto saluto chi sta anche seguendo dai canali YouTube e di Facebook. Volevo intanto partire da un pochissimo tempo da un racconto che è quello costruito dalle varie voci del mondo della scuola. Ho provato attraverso una metodologia che si fonda sulla raccolta di storie a provare anche a metterle in dialogo fra loro. Quindi intanto vorrei ringraziare le persone che mi hanno affidato queste storie e che sono storie di vita quotidiana, storie che sono di docenti dei vari ordini di scuola, dei dirigenti scolastici, dei collaboratori, del personale amministrativo, di studenti, di studentesse e anche di un pediatra. Perché sono figure che in questo momento stanno vivendo appunto. Abbiamo scelto insieme i passaggi emblematici che potessero in qualche modo dare la misura di quello che sta avvenendo all'interno della scuola in presenza. Allora, cerco di andare dritta alle questioni emergenti. Una prima questione ha a che fare con la dimensione organizzativa e normativa, che intorno alla questione Covid, lo dico in modo molto chiaro, tende a scaricare le responsabilità sui dirigenti e sull'intero personale scolastico. In una situazione che è di estrema confusione e crea ambiti facilitanti rispetto alla diffusione del contagio, come abbiamo tra l'altro visto dall'emergenza dei dati. Un dirigente racconta, riporto proprio le sue parole, le norme sono scritte in modo molto ambiguo, per cui troverai dirigenti che interpretano in un modo e altri che interpretano quella norma in modo opposto. Faccio l'esempio delle sentenze della questione mensa. Significa che noi dirigenti sprechiamo moltissime energie per cercare di capire cose che non si capiscono. Un'altra questione è rispetto all'uso delle palestre. Negli ultimi di PCM si parla non di palestre scolastiche, ma di palestre in generale. Non abbiamo quindi chiaro se dovevano rimanere aperte o chiuse. Questa zona grigia di ambiguità è estenuante e ti posso assicurare, dice sempre il dirigente, che mi confronto con gente che fa questo lavoro da molti più anni di me e ha lo stesso identico problema. Quindi, alla fine, cosa devi fare? Io, ad esempio, non sto facendo usare la palestra. Ci sono scuole, invece, in cui sono meno rigidi. Io sono più rigido perché ho paura delle conseguenze sulla responsabilità. Il problema è che, però, questa ambiguità non si dirime subito, ma con note di chiarimento che a volte arrivano dopo mesi. Nel frattempo ogni dirigente prende le sue decisioni in modo autonomo. Per esempio, un altro esempio, le lezioni sullo strumento affiato, il flauto dolce, per esempio. Ci sono tantissimi quesiti su questo. Arriva la data ministeriale, ma in quel frattempo manca la fattispecie. Ora, dice il dirigente, per carità, non dico che i relatori debbano essere onniscenti, perché in molti casi non li puoi prevedere, però dovrebbero consultare la trincea, chi sta in classe, per organizzare un minimo anche la chiarezza delle note. A questa ambiguità si aggiungono elementi normativi che sono noti, abbiamo visto prima, Alessandro Ferretti, insomma, è stato assolutamente chiaro. Racconta una mamma che ha una figlia che va alla secondaria. I ragazzi non possono nemmeno girare la testa di lato seduti al banco, altrimenti i professori li sgridano, perché se non stanno fermi vanno a mancare le distanze e il metro delle rime boccali. Gli studenti in mensa tolgono le mascherine, questo costituisce un pericolo di contagio. Durante le attività motorie, lo abbiamo visto, si tolgono le mascherine. Gli alunni disabili possono non portare la mascherina, altra questione già detta prima. I bambini e le bambine della scuola dell'infanzia non hanno la mascherina, ma questo non significa che non siano veicolo di contagio, perché come abbiamo visto e come c'è anche riferito un pediatra, i dati ci dicono che i bambini sono la fetta di popolazione che si infetta di meno, è vero, hanno patologie meno gravi rispetto agli adulti, è vero, però è pur vero che quando un bambino si ammala è un veicolo di infezione per tutta la comunità che ha intorno, soprattutto per la famiglia, ma anche per chi lo tiene vicino, comprese le insegnanti. Quindi per quella fascia di popolazione che non può mettere la mascherina, cioè i bambini sotto i sei anni, le regole purtroppo possono essere rigide, si abbracciano, si scambiano i giochi, si scambiano le bottigliette. Una mamma che è anche insegnante ci racconta che nella sezione di sua figlia ha visto il video di Natale in cui i bambini che sono 28 per sezione cantano i canti natalizi uno vicino all'altro, va bene. Il problema dell'insicurezza poi si connette anche a quello della carenza di personale. Questo è un punto sul quale voglio tornare perché del personale ATA, per esempio, non parla nessuno, neanche sindacati. Io fino a oggi pomeriggio ho fatto un giro sui vari sindacati della scuola nazionali, c'è questa situazione. Allora, il personale si è detto che è stato aumentato. In realtà, anche se il personale in organico potrebbe essere leggermente aumentato, in molte scuole mancano supplenti, cioè non si riesce a trovare personale per tante ragioni. Fra queste, la principale, è che i contratti spesso risultano poco appetibili. Una collaboratrice scolastica ci dice che i contratti non sono stati pagati, ancora quelli di settembre. Un contratto di un collaboratore ATA si aggira intorno ai 1000 euro e se consideriamo, facciamo il caso di Roma, che la maggior parte dei collaboratori scolastici proviene dalla Campania, quindi deve pagare un abbonamento annuale per i mezzi di 400 euro, capiamo bene che non vale la pena affrontare la spesa. No, scusate, 400 euro mensili, non 400 euro annuali. Quindi il confronto va fatto proprio sulla base dello stipendio mensile che tra l'altro deve essere anche anticipato. Dice la collaboratrice, è un contratto di merda, scusatemi l'espressione, però bisogna anche capire perché poi il carico di lavoro per ogni scuola viene spalmato sul poco personale residuo. Questo cosa significa? Lo capiamo da questo racconto di un collaboratore. Gli studenti escono alle 2, meno 20. È un collaboratore di una scuola secondaria del Nord Italia. Io dalle 2, meno 20 potrei cominciare a pulire le aule, ma io finisco il turno alle 2, quindi io in 20 minuti dovrei fare 7 classi e i bagni. Qui stiamo prendendo un dato che è il dato medio, o ci sono collaboratori che da soli devono fare 10 classi. Per pulire, ovvero per sanificare un'aula, servono almeno mezz'ora. Se consideriamo che sanificare significa pulire sotto i banchi, togliere le mascherine, pulire i banchi, spazzare per terra, lavare con dei prodotti particolari, gli interruttori, le maniglie, capiamo che non è possibile, lo dicono tutti i collaboratori in questa situazione, garantire quel livello di sanificazione che dovrebbe essere indispensabile prevedere in una classe. Allora, noi abbiamo avuto, dice una collaboratrice, un carico enorme fisico e di responsabilità. Firmi un registro in cui dici, questa classe l'ho sanificata io, non riusciamo a seguire le regole con dei protocolli. Come fai con tutti i bambini che vanno in bagno, che devono essere disinfettati? Io lo faccio tre volte al giorno e già così è tanto. Non ce la faccio più. Ho l'esaurimento nervoso. Il mio medico mi ha firmato la relazione per burnout. Una domanda riguardo la sicurezza che si pone a un collaboratore, perché immaginando lo scaglionamento del rientro nella secondaria, laddove nei plessi sono soltanto due i collaboratori, la media di solito è questa, se due collaboratori sono impegnati per la distribuzione delle mascherine e del disinfettante, al piano è possibile che non ci sia nessuno a fare vigilanza. Si pone anche un problema di sicurezza. Ancora, qui invece un insegnante di scuola primaria dice, mentre all'inizio dell'anno c'erano delle procedure ben rigide da seguire, nel senso che anche i bambini con raffreddore non potevano accedere in classe e alla minima tosse dovevamo contattare i familiari, in realtà col passare del tempo la situazione si è allentata parecchio. Siamo stati invitati ad ammorbidirci un po', perché altrimenti ogni giorno avremmo dovuto chiamare i genitori, per cui resta il fatto che in classe ci sono bambini che tossiscono e starnutiscono ripetutamente. Ovviamente non sappiamo a cosa sia dovuto, ma io come faccio da un banale colpo di tosse a capire se è un raffreddore o un sintomo di Covid, se non lo sanno neanche i medici. Ci hanno detto che dobbiamo chiamare i genitori solo in caso di temperatura corporea superiore ai 37 gradi e mezzo. Cosa accade? Qui riprendo una questione che poco fa Cristiano Corsini ha molto chiaramente già delineato. Qual è la normativa quando all'interno di una scuola si verifica un caso Covid? Allora, qui si fa riferimento alle linee guida nazionali, che però demandano alle singole ASL la gestione e l'individuazione dei casi. Si fa riferimento al caso stretto, contatto stretto per la precisione. Quindi le ASL chiedono tramite il dirigente e il referente Covid chi sia il personale che ha avuto un possibile contatto stretto, che è da accertare attraverso delle indicazioni che però variano da ASL ad ASL. E quindi per identificare le persone che sono state direttamente a contatto, quindi la definizione di caso stretto, si fa riferimento, faccio l'esempio dell'ASL numero 1 di Roma, che è quella che ho portato come esempio, ma più o meno sono queste, persona che ha avuto un contatto fisico con caso Covid, persona che ha un contatto diretto, non protetto con le secrezioni di un caso Covid, per esempio toccare a mani nulla il fazzoletto usato, persona che ha avuto un contatto diretto a distanza, minore di due metri, e per un tempo superiore ai 15 minuti, persona che si è trovata in un ambiente chiuso con un caso Covid senza protezione, ovvero senza mascherine. Quindi si chiede di autodichiarare che non si sono usati in maniera continuativa i dispositivi di protezione o non si sono rispettati i distanziamenti. In quel caso si va in isolamento fiduciario per 14 giorni. Se invece si dichiara di aver eseguito il protocollo, il docente, il personale che è stato a contatto con un caso, non viene considerato contatto stretto, non deve osservare l'isolamento e torna in servizio. Così si entra in un paradosso. Questo è uno senodo molto importante e fondamentale. Un docente, una docente ad esempio, ci racconta che dopo aver saputo che un alunno della sua classe ha risultato positivo al Covid, ha trascorso ore in preda all'angoscia, senza sapere cosa fare. Se dichiarare quello che riteneva plausibile, cioè che potesse inavvertitamente essersi contagiata, perché ovviamente, pur avendo usato tutte le precauzioni, aveva avuto i bambini vicinissimi, aveva mangiato in mensa con loro, era stata in palestra, eccetera, oppure avrebbe dovuto dichiarare di avere mantenuto continuativamente le distanze e i dispositivi, cosa che a scuola è praticamente impossibile, e quindi tornare a scuola rischiando di contagiare altre persone. I laboratori della scuola si trovano quindi a essere ad oggi all'interno di un doppio vincolo paradossale, o dichiarano di essere inadempienti, dal momento che chiaramente significa fare un'autodenuncia di inosservanza, dire che non si è tenuta la mascherina e non si è tenuto il distanziamento, oppure vivono l'angoscia di essere dei juntori potenziali. Ad oggi ho chiesto a un dirigente scolastico quante sono state le dichiarazioni di docenti che hanno dichiarato autodenunciandosi come contatto stretto, la risposta di quel dirigente è stata nessuno. Io mi fermo qui anche per non sforare con i tempi, casomai poi riprendiamo con altre questioni, e insomma lascio la parola a Lorenzo, che approfondirà la questione delle voci del mondo della scuola. Grazie. Grazie.